Imperativo farsi trovare pronti l'Aquila a due anni di tempo per sviluppare il progetto dell'Aquila Capitale della Cultura 2026 che vedrà un centinaio di progetti da sviluppare non solo all'Aquila ma anche nel cratere. Produzioni culturali ma anche workshop realizzate sia da associazioni locali che nazionali, ovviamente, si stima un aumento del flusso di turisti del 5-10%. In questi 15 anni dal sisma una delle problematiche è stata rappresentata dalla mancanza di spazi di aggregazione dove far cultura. Al centro c'è il discorso del teatro comunale la cui ricostruzione ha subito intoppi e lungaggini. Entro il 2026 si punta alla riconsegna. Il progetto infatti è stato completato ed è in fase di verifica preventiva. Dovrebbe essere autorizzato dalla sovrintendenza in questi giorni e poi essere valutato dal verificatore esterno. Poi si dovrà andare a gara. I fondi ci sono. Il ministro San Giuliano ha trovato i 5 milioni di euro che sono necessari per il completamento dei lavori. Siamo d'accordo con il segretariato regionale e beni culturali che una volta validato il progetto tornerà nella titolarità del comune proseguire l'appalto perché fino ad oggi è spettato a loro in mirtù di una vecchia convenzione e cercheremo di accelerare al massimo i tempi. Il grosso è stato fatto. Bisogna fare degli adeguamenti strutturali, gli allestimenti e poi i collaudi. E speriamo sì entro il 2026 di riaprirlo. Naturalmente con i lavori pubblici non si sa mai come vanno le cose però siamo molto determinati a dare priorità al recupero del teatro comunale. Per quel che riguarda le lavorazioni mancanti manca una parte di miglioramento sismico della struttura, l'impiantistica, la parte scenotecnica con il palcoscenico e le finiture. A questo comunque dopo le verifiche va giunta la procedura di gara che potrebbe richiedere qualche mese ma se si accelererà in qualche modo il processo i tempi potrebbero essere maturi appunto tra due anni. Anche il direttore dello stabile Aquilano, l'attore Giorgio Pasotti, auspica che questo riconoscimento possa dare impulso alla restituzione del teatro per il 2026, anno nel quale cesserà anche il suo secondo mandato alla guida della prestigiosa istituzione.